Ciao, buonasera, ci troviamo a San Quirico Nuovo, in provincia di Potenza, siamo al Tropical, pizzeria, ristorante Tropical da Rocco, poi vi farò vedere che cosa mangiamo, tagliatellina con farina lucana, con funghi e pomodorini, e poi una bella pizza, a dopo, ciao. Eccoci qua, allora stiamo mangiando le strascicate, le orecchiette, con i funghi e il pomodoro, anche il nostro Tomasino, come sono Tomasino? Ottimo! E vai, buon appetito, a dopo. Qui c'è, vedete, salame, sarebbe salsicia, qui lo chiamano salame, stagionato, funghi e pomodoro. Tomasino mangia molto di gusto, anche io mangiare di gusto, è finito. Ecco, è una fantastica pizza, con gorsola, mozzarella, speck e funghi, alle mosse mani. E invece Tomasino mangia nulla, è rimasto senza mangiare. Te sta bene, te sta bene, ah c'è la pera, è un briacone, ciao. Grazie a tutti.